morti tutti ieri quello che moriva ben tornati con la sesta puntata di maricraft siamo un attimo un attimo a puntare speriamo che i diamanti stanno ancora la cosa divertente che io ero quello che crema e si è che aveva detto ma la sesta puntata dobbiamo inizia danni e professioni dicevo danni professionista e quindi va bene di sicuro non morirà pure che va vicino alle zone pericolose poi dopo magari sviluppo io l'improvviso era un qui perché cazzo l'ha visto veramente c'era una guarda sotto ma è stato fatto sotto in aria da creeper ma fa un culo il creeper ci voleva il germano mosconi dio cane ma no quindi niente sto dicendo siamo saltati in aria ci hanno fatto viaggio e quindi possiamo forse te ritornare in caverna diciamo che diciamo che lo scopo di questo questo video 4 gli diamanti non fare esplorazione trovare diamanti che se abbiamo del culo che abbiamo orati un bel 10 per loro anche loro è 15 se li troviamo altrimenti siamo costituitati a uscire vediamo in questo video va bene va bene va bene si vediamo un po faccio io che non muoio si si non muoio in tanto tu sei che è morto però no dico si si non muoio nel senso la musica di tensione da 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 cosa accadrà il creeper vabbè c'è roma di nuovo vogliono è morto e quindi non ci dovrebbe essere nessun altro se non c'è se non esiste un altro ecco vedi camicazze di mecca scappa boom è saltato ok che è un calcacino non capi cazzo queste di almeno di carbone a un po di vista la roba vediamo del prima è un altro cazzo no 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 sui materiali mamma mia sui materiali tu non dovessi sentito bene puoi fare così tu ecco si voglio farmi tu i bastardi della mojang devono morire tutti i creeper di merda dai fai bravo dicevamo non fa il mona reali diciamo che ci sono registrazione di una 30 secondi è proprio una cosa guarda ma non lo so io guarda e portano no puttina puttina madonna puttina vai vai scappa aspetta facciamo che qua cita ci tappiamo no mettiamo una torcia in modo che non passano i kamikaze i creeper kamikaze ok vai scappa ok io che non muoio stavo martes e si perché ma ancora ma no ma no ma non si può eccolo qua si sono lo yang ancora caccia di pietre preziose tante ma devono essere troppo comunque le troveremo che non penso semplicemente perché comunque ne abbiamo siamo stati fortunati e ne abbiamo rate già tante ma poi nell'arco di un in un breve tratto si già metto 50 blocchi siamo quasi al buio quindi forse il caso di mettere qualche torcia metti la torcia nella seconda mano vai torcia così se non avessimo l'optify non potete non potessimo non potessimo non potessimo a fare passo non potessimo morire infatti non riuscire a morire bam ti perdi in me ma mi credo non l'hai visto l'orio sento una goccia d'acqua siamo in prossima zittone no ah no forse no no forse è stato il blocco 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 quando lo sai quando salta è impressionante si è un po' quindi quando andiamo andiamo di un bel po' si di quanto scaveremo comunque è quasi impossibile che siamo cinque puntate in due giorni a serie con questa è la sesta perché siamo in sesto episodio perché mo sta se vabbè oggi posta si vabbè tipo per le 7 mettiamo a caricare il video raga suggeriteci sempre la questione della skin perché io vorrei mettere la mia skin personale perché in quanto pare non è facilissimo e poi sempre il consiglio di costruire cose simpatiche che possano incuriosire ci impegniamo le facciamo e poi c'è da qualche tempo ci avevamo accolti che ma di tutto convinto eravamo livello 26 e dobbiamo scendere siamo a 26 ma mandare tipo 12 12 12 allora non è mai vero invece stiamo così giù e noi ci siamo trovati così su veramente surreale guarda vabbè ma ecco in realtà diciamo che il fatto è che non penso sia una leggenda perché è più verità è una cosa e si dice che dal livello 12 in giù anche 13 trovano i diamanti questo ce l'abbiamo sullo schermo per vedere la profondità da 11 12 la dovrebbero essere possiamo diamanti il gioco di malamada perché non abbiamo trovato qualcuno che ci vuole contatta toglie dalle palle toglie dalle palle sto giocando lapis lazuli buoni sì sì per i conigiani che ti vi piacciono sono buoni e quindi io vado per quello che mi piace la renko a nesmeralda buona grande si arrasma ok vabbè comunque ferro il carbonio c'è anche la caponella caponella la caponella da legno legno tanta legna tante legna quindi dobbiamo secare io penso che è mastucita se che se che tanta legna io penso che è mo p***a tu vuoi che siamo arrivati a livello 10 ammira riceva benza piscata un culo a mano libera a mano libera la free piccola la spada andiamo la cosa difficile che io devo guardare della registrazione ma sta registrazione così che non mi voglio rimane ragazze hanno suggerita ragazzi come dicevo suggeriteci anche qualche modo per registrare che questo modo ci fa due palle così qua cosa ancora la vislazuli però lezioni di pietre che ti piace ha comunque ricordati sempre che la redstone ti fa da un sacco di esperienza non si sa perché quindi c'è pure che allora è buona a invece buona perché ti dà l'esperienza giacca in survival vediamo qualcos'altro che cazzo stiamo in colonia un bel posto e chi c'è chi è che si trova lì come dico cioè allora il bello di questo programma è che non lagga però terra e terra si è a terra però non stiamo solo allora il bello di questo programma è che non lagga però il punto diceva tra poco poco che ci caga il cazzo lo dicevo dico le parole forse ci riparo perciò ogni tanto questi blocchi cagano il cazzo anche loro aspetta che cazzo ci vuole altra lezione di minecraft allora tu devi spaccare perché c'è tutto il blocco vedi vabbè ma era lo sfizio di guarda ma ce ne sono abilità se tu lo fai guarda c'è consumo praticamente si consuma veramente 69 di qua no sì quindi si cambia direzione cambiamo direzione ma gira a destra così esatto vuoi buono lo so andiamo a cazzo così e infine non troviamo un cazzo infine si persero lontani da casa lontani da tutto lontani dal mondo lontani dal mondo esce qualcosa no mi servono e scende più potetevi tutti sempre fatto della game mode game mode creative ci siamo infatti un po di palle così però sono uscite di nuovo e lanciavamo anche madonna ci vuole sempre qualcuno che ti aiuta a trovare di grazia germano c'è una cosa a quel video con queste quindi si deve inventare qualche video dove deve inserire anche german musconi mette l'intervista doppia e no dai anche qualche altro video che troppo forte penso che sia anche uno spoiler perché non so se è uscito già vabbè spogliere va ben curiosisci non è uscito ma non uscirà e ci sarà allora contiamo lì 1 2 3 4 metto giù perché diceva c'è quindi 5 6 o a 18 diamanti dicio c'è molto vabbè io non vado su c'era da un attimo a posarli perché so che se non facciamo una vuole loro se questo anche loro vabbè sì comunque loro è sempre utile a pesci la nostra ferrami adoro e quindi c'è carote dove serve sempre per mangiare si benissimo quindi forse d'oro e più nutriente cosa non è parecchio guarda io penso che anche già abbiamo chiamato la puntata 6 penso che l'entra non lo battiamo alla puntata 50 penso minimo perché dobbiamo fare il modo sponere in modo che teniamo tipo le tutte facciamo esperienza e prendiamo tutto il troppo di il portale giusto il portale a cui il materiale necessario per costruire il portale del nether per andare nel nether invece l'occhio di gli occhi di end per andare nel posti diversi per on land devi prima andarlo a trovare poi una volta che l'hai trovato e quindi anche ora si trova a culo si no vabbè il per fare lasciamo ti faccio vedere allora prima prima di tutto questo ora c'è sempre quella famosa mappa che abbiamo trovato eh sì che dobbiamo vedere magari nella prossima puntata e poi nella prossima puntata possiamo magari quella mappa c'è volta esmeralda allora ti sto dicendo che jeb non l'ha implementata cazzo eh ma allora accogli questa appello a jeb vedate esmeralda al pubblico casuane con due modalità di giorni si si quella notturna e quella di urna poi ci penso io casuane il letto matrimoniale se questo video lo bloccano esmeralda ci denuncia anche certamente ci avete rotto i coglioni mi non mi dà sempre questa è molestia verbale questo è stalking questo è stalking questo è stalking noi ce lo mangeremo nel poi dobbiamo portarci cioè dobbiamo una volta battuto l'nether dragon se non moriamo va perché moriremo tante di quella morte no si almeno una dozzina di volte ma almeno è finito piccone dicevo almeno si sta registrando voi non lo vedete mai ma noi si si fa due palle così sto fatto che si firma sempre vabbè dicevo poi di città non ha male che ci siano i tagli non mi coglioni una volta che abbiamo battuto il figlio di troia il drago di troia battuto il drago di troia eh va bene si apre un altro portale che ci porta battiamo o sbattiamo eh sbattiamo e torniamo a non andare perché youtube non ci blocca un po poi ci elimineranno il video e ci vanno permanente a vita youtube è bravo prendiamoli che mi piacciono io devo sempre fare la lezione di rarità e di forza ma non è importante allora io vado così a istinto mi piacciono libro allora che volevo dire una volta che abbiamo battuto la cogliona perché è una lei è una lei è una lei perché è una troia quando te lo ammazzita anche il suo uovo ah ecco quindi con l'uovo ce lo fottiamo lo sbattiamo una frittata che facciamo ma la fitta la fintata la fintata una fintata di uovo di drago è una super nutriente in questo video non sono stati maltrattati nessun tipo di drago e neanche le uova anche smeralda no no ci penso io quindi dopo che si fa si prende l'uovo si sbatte non è vero la prendi in pratica il pistone anche se lo col pistone puoi spaccarlo con una torcia mh e comunque una volta che l'hai preso niente cioè ce l'hai ok e volendo ma noi lo faremo perché sennò le moni le più su dove sono accetto arrivare a più di puoi anche rigenerarlo con quell'uovo il drago e puoi rigenerare il drago e lo ribatti e lo ribatti e lo ribatti però dopo non c'è un altro mostro non esiste non c'è ancora questo non mai no come un mostro finale per solo quello è perché voi da poi vai nel voido ma non c'è nessun tipo di boss stanno i shulker e poi sta la mansions la woodland mansion che stanno i villai ma mi sa che nel tempo qualcos'altro si inventeranno per superare chi è il gioco già sta lavorando alla 1 c'è most ha rilasciato la 1 a 14 che esce già i primi di 2019 poi lui già stava lavorando alla ragazzi qua c'è stata una piccola interruzione perché noi ce ne siamo accorti che lui si è bloccato e non ha più registrato e quindi si quindi niente nel frattempo abbiamo scavato parliamo degli aggiornamenti di Minecraft di Esmeralda e Germano Moscone si Esmeralda non buona speravo di trovarla la sotto ma niente niente alla fine siamo usciti però almeno ha registrato l'altro quindi scusate l'interruzione godetemi l'altro uno due tre e quattro ok quindi posso dire che il video è di sfida qua spero il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo episodio così tanto a random con dei diamanti cioè con dei diamanti belli e al prossimo video ok al prossimo video ciao 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 ciao